Dal numero 172 di Amoris Letizia. L'amore dei genitori è percepito dai figli come fonte della propria esistenza, come nido che accoglie come fondamento della famiglia. Se così non fosse il figlio potrebbe ridursi ad un possesso capriccioso. È proprio in questo amore reciproco che l'uomo e la donna mostrano ai loro figli il volto materno e il volto paterno del Signore, un volto d'amore che infonde fiducia e permette una vera crescita nella fede. I figli sono il coronamento dell'amore coniugale, l'espressione più completa della reciproca donazione che gli sposi fanno l'uno dell'altro. In questo senso gli sposi, il padre e la madre, diventano cooperatori dell'amore di Dio, creatore e quasi suoi interpreti, come afferma Papa Francesco. Bisogna però riconoscere che non esiste un diritto ad avere figli. Questi rimangono un dono preziosissimo e assolutamente gratuito che Dio concede agli sposi che decidono di aprirsi alla vita e di diventare suoi collaboratori nell'opera della creazione. La fecondità dell'amore coniugale infatti non si esprime soltanto nella genitorialità, come testimonia l'esperienza di molte coppie, ma in tanti altri modi attraverso i quali gli sposi possono davvero donarsi a Dio e agli uomini in modo molto fruttuoso, molto fecondo. I figli rimangono sempre un dono ricevuto e un dono da condividere e per questo il mette in guardia i genitori dal considerarli un possesso capriccioso. I figli infatti esigono di essere accolti con amore, amore che i genitori sono chiamati a donare loro per tutta l'esistenza, soprattutto nelle fasi iniziali della crescita e dello sviluppo. La vocazione matrimoniale allora, come possiamo capire da queste prime battute, è una vocazione all'amore e questo ci dice la grandezza del matrimonio cristiano. Amore tra i coniugi certamente, ma anche amore dei coniugi verso i figli e verso l'umanità tutta. Infatti ogni bambino ha diritto, ha diritto di ricevere l'amore da un padre e da una madre, che sono entrambi necessari per una crescita integra e armoniosa, come ribadisce a più riprese Papa Francesco. È chiaro che la sfida dell'educazione rimane una tra le più difficili e impegnative che i genitori sono chiamati a vivere, però bisogna riconoscere che il punto di partenza è sempre e soltanto l'amore, un amore che non è mai buonismo che giustifica tutto. Attenzione, si tratta piuttosto di un amore maturo che sa discernere i momenti dell'abbraccio e i momenti del rimprovero. Genitori non si nasce e voi stessi potete testimoniarlo ancora più di me. Per questo il modello degli sposi rimane sempre l'amore paterno e materno di Dio, che proprio perché ama di un amore eterno non manca di correggere e di richiamare i suoi figli nella via della vita. È straordinario come la vocazione e la missione degli sposi cristiani sia strettamente congiunta all'opera salvifica di Dio. Lo abbiamo visto nel video precedente, dicendo che gli sposi sono associati in modo veramente stretto al mistero della morte e della resurrezione di Cristo. A volte si pensa che solo il sacerdote o i consacrati vivano in modo particolare, in modo profondo, questa cooperazione al progetto salvifico di Dio. Gli sposi cristiani lo fanno in modo straordinario e in modo assolutamente eccellente. Dobbiamo aggiungere infatti che anche attraverso l'amore tra di loro e verso i figli sono collaboratori dell'opera di Dio. L'amore che naturalmente è spontaneamente. Si danno l'un l'altro e danno i figli infatti non solo permette a loro di essere co-creatori insieme a Dio, ma addirittura questo amore, ascoltate bene, è lo strumento privilegiato per la trasmissione della fede in famiglia. Un punto cruciale soprattutto in questo periodo. Ci si interroga tanto su questa cosa. Come possono i genitori trasmettere la fede ai figli, soprattutto in età adolescenziale, quando questi si rifiutano e rifiutano di ascoltare qualsiasi cosa che abbia a che fare con Dio e con la Chiesa? Ecco, in tanti modi possono farlo i genitori, ma prima di tutto, prima di tutto, dando amore. Perché dando amore i genitori non fanno altro che mostrare il volto di un Dio che per amore ha donato tutto per l'umanità, ha donato quanto di più prezioso aveva il suo figlio Gesù Cristo.